Attore, figlio d'arte e fratello di un altro attore, Leo Micheluzzi, inizia la sua carriera nel 1903 recitando nella compagnia veneta Zago Borrisi. Nel corso del tempo forma diverse compagnie di cui fanno parte nomi importanti come Gianfranco, Giacchetti, Cesco Baseggio e Gianni Cavalieri. Nel 1923 sposa l'attrice Margherita Seylin. Interpreta con successo testi di Carlo Goldoni e Giacinto Gallina e nell'ambito del teatro dialettale è uno dei pochi a muoversi con disinvoltura tra ruoli sia comici che drammatici, stimolando diversi autori a scrivere opere in Veneto o a tradurre in dialetto quelle in lingua italiana. Grande interprete del teatro Goldoniano e Veneto. Interpreta con la reggia di Renato Simoni Le Baruffe Chiozzotte nel 1936. La famiglia dell'antiquario nel 1939. La putta onorata nel 1950 con la reggia di Giorgio Strelere Lavaro Fastoso nel 1956. Dopo essere ritornato nel 1957 per alcuni anni a formare una compagnia con baseggio, Micheluzzi lascia le scene nel 1961, accomietandosi dal pubblico in quella che rimane la sua ultima recitazione. Il burbero benefico di Goldoni. Micheluzzi debutta nella maturità, 1939, anche nel cinema interpretando gustosi ruoli come caratterista. In ore 9, lezione di chimica e il facoltoso commendatore padre di Alida Valli e in Totò al Giro d'Italia è Il diavolo. Durante il periodo della Repubblica Sociale Italiana è uno dei pochi attori attivi nella cinematografia repubblichina. Presente in diverse rappresentazioni di commedie goldoniane nei primi anni di attività della televisione, era il padre degli attori Tonino e Franco Micheluzzi. È morto a Venezia nel novembre del 1973 a seguito di un collasso.